vi ricordate che vi avevo fatto scaricare un template di bootstrap però ho visto che questo template ha delle cose che non vanno tanto bene quindi lo usiamo lo stesso però è necessario andare a modificare il file index quindi ho fatto alcune modifiche quindi vi chiedo poi di sostituire il file index però aspettate un attimo perché tanto adesso non vi spiego alla parte prima quello che dovete fare poi anche se non lo fate stasera non importa lo fate poi è andare a questo link che vi ho messo qui template bootstrap da scaricare e andare a fare il download quando fate il download avete una una cartella start cioè avete un file un archivio compresso fatte l'estrazione del dei file contenuti all'interno e dentro avete gli assets cioè le immagini video e favicon che compare nel nella scheda del browser poi avete il css e comprende anche bootstrap qualcosa di bootstrap c'è adesso non ricordo cosa poi c'è questa cartella js con un file che in realtà è vuoto che serve proprio a noi perché ci andiamo a mettere dentro il codice e poi in questo file index che voi dovrete andare a sostituire con quello che io vi ho messo qui come si fa a lavorare con questo template in eclipse la prima cosa da fare siccome adesso stiamo lavoreremo con delle applicazioni web non possiamo più lavorare in locale e cioè non possiamo più scusate non c'entra niente usare la versione java standard edition ma dobbiamo utilizzare java enterprise edition quindi dovete andare qui dove c'è questa icona e passandoci sopra viene fuori la scritta open perspective e dovete scegliere java e se non avete queste icona qui potete comunque fare la stessa operazione cliccando su windows perspective open perspective poi andate su adder se non c'è già qui java e e lo trovate qui adesso eccolo qui java e default dall'altra parte si fa prima e finora noi abbiamo lavorato con progetti java new java project adesso invece dobbiamo lavorare con un tipo di progetto diverso in realtà non cambia niente per quanto riguarda java cambia la struttura della dei file all'interno di questo progetto potremmo costruircelo anche noi da zero però siccome abbiamo già dei framework qua dentro usiamo questi framework che sono più comodi ce ne sono diversi usiamo quello che più semplice per il lavoro che dobbiamo fare noi che è il dynamic web project quindi andate su file new dynamic web project cliccate e si apre questa finestra qui dovete inserire il nome del progetto e l'interfaccia del tempo si chiamava coming soon quindi lo chiamo anch'io coming soon poi ci potete mettere il nome che volete non è importanza poi attenzione perché a differenza di quello che abbiamo fatto finora qui bisogna scegliere il target runtime che cos'è il target runtime per poter eseguire le applicazioni web c'è bisogno di un web server java inoltre a java non basta un web server un web server per esempio apaci non gli basta ha bisogno anche di una cosa che si chiama servlet container il server container è un programma un software che è in grado di compilare il codice di java quindi dobbiamo andare a prenderci questo servlet container noi useremo tomcat dove si trova tomcat si può installare a parte però noi anche voi ce l'avete già installato sul vostro computer ed è proprio quello dentro la cartella di xamp quindi dobbiamo dire a java dove si trova java dove si trova tomcat quindi dove c'è scritto target runtime e vedete che c'è scritto non cliccate su new runtime scegliete apaci tomcat versione 7 e poi cliccate su next poi andate a cercare la director di installazione di tomcat quindi cliccando su browser si va nella disco locale c a prendere la cartella di xamp poi dentro la cartella di xamp scendendo in giù c'è la cartella di tomcat basta cliccare una volta non aprite la questa cartella basta selezionarla e poi cliccare su seleziona selezione cartella e adesso vedete che qui c'è effettivamente il percorso che ci conduce a tomcat una volta che ho appunto indicato dove andare a prendere tomcat posso cliccare su finish e si crea il progetto guardate adesso il progetto che c'è qui sulla sinistra se andate espandere l'albero di progetto vedete che ci sono diverse cartelle la cartella java resources qua dentro mettiamo tutti i file di java quindi se aprite questa le spandette trovate il solito src dove andremo a mettere i package i file di java eccetera eccetera però ci sono altre cartelle lasciate perdere javascript guardate web content web content è la cartella che conterrà tutto il codice html javascript css quindi se voi avete scaricato il il template dovete dopo aver estratto i file andare a copiare queste cartelle e il file index fate proprio un copia poi vi spostate nella cartella web content del progetto e incollate paste vi ho detto che dobbiamo andare a modificare questo file index html dunque per aprirlo si va il tasto destro del mouse open with html editor in questo file c'erano molte cose che non ci servono allora ho cancellato tutto quello che non serviva e ho aggiunto jquery perché ci serve jquery quindi adesso vi faccio vedere il file modificato quindi vado a prendere questo file e vado sempre nella cartella web content semplicemente vado incollare e mi chiederà se voglio sostituire il file esistente con quello che ho appena messo sì ovvero write all ora lo riapro così potete vedere quali sono cioè ho ripulito un po il codice dalle cose che non ci servivano questo è il codice che noi dobbiamo modificare lo vedete circondato da queste da questi asterischi in modo tale che sia più facile per voi individuarlo quello che ci interessa il form tutto il resto relativamente vediamo un po come si fa lanciare questa applicazione attenzione se io vado ad aprire solo questo file vedo solo l'html in locale e non è quello che serve quello che serve qui e lanciare l'applicazione nel web quindi lanciarla lato server come si fa si va sul file index tasso destro del mouse poi ram as ram on server devo salvare la prima volta mi chiede qual è il server che voglio usare e quello che ho già impostato prima quindi dico semplicemente finish e vedete che si apre all'interno del eclipse la pagina però siccome all'interno di eclipse il browser integrato in eclipse non funziona bene con bootstrap allora o copio questa questo url e lo vado ad aprire nel browser oppure se riesco ecco vado impostare il browser di default scelgo chrome e in questo modo adesso chiudo vi faccio vedere che in questo modo se lancio l'applicazione si apre nel browser eccola qua come funziona questa cioè cos'è che dobbiamo fare beh una cosa molto semplice sono partita da da una cosa semplice apposta anche se carina noi dobbiamo registrare le email del c'è dobbiamo andare a salvare nel database le email degli utenti che si prenotano diciamo per essere poi notificati quando lanceremo la nostra meravigliosa piattaforma quindi si tratta di andare a inserire di andare a prendere l'email e andare a salvarla nel database ora cose che dobbiamo fare con che cosa dobbiamo lavorare allora intanto ci dobbiamo accertare che nel form ci siano i campi che ci servono allora il form guardiamolo un attimo questo form ha un id contact form poi a vabbè queste sono i div che servono a bootstrap quindi non non cambiano nulla dal per quanto riguarda il funzionamento che vi ho appena detto poi abbiamo due campi di un campo di input che quello che contiene l'email difatti di tipo email e ha un id email id dal valore email e poi c'è un button un button che ha di tipo submit quindi vuol dire che quando noi clicchiamo su submit ciò che viene inserito all'interno di questa casella di email viene inviata al server questo pulsante ha un id che è l'id submit button la libreria jquery due parole su questa libreria jquery è una libreria che è stata molto molto utilizzata che cos'è una libreria di javascript praticamente viene utilizzato il linguaggio javascript però sono jquery semplifica un pochino la scritta si basa su javascript ma semplifica la scrittura del codice javascript è stata molto utilizzata recentemente un po meno perché ci sono anche altre tecnologie però è ancora in uso quindi quest'anno lavoriamo con jquery il prossimo anno lavoreremo con altre cose che caratteristica jquery cosa bisogna sapere bisogna sapere tutto dice quelli di javascript no ci mancherebbe come sempre siccome c'è tantissimo da imparare ma proprio tanto come così da conoscere bisogna avere un po di basi e poi il resto insomma a cercarselo le basi di jquery allora la differenza tra javascript e jquery la seguente se io voglio gestire un evento su questo pulsante e lavoro con javascript ditemi se vi risulta devo inserire una cosa del genere on click uguale e poi qua metto il nome della funzione da richiamare giusto in modo tale che quando faccio clic su questo pulsante viene richiamata la funzione che poi è scritta qua dentro dentro la sezione erda di questo documento oppure in un file esterno invece con jquery non c'è bisogno di fare questa cosa e quindi prima di tutto bisogna importare jquery oppure come ho fatto io qui inserire il link a questo cdn di jquery vedete qua questo che trovate appunto l'ho inserito perché non c'era nel template originale perché il bootstrap 5 non utilizza jquery però invece noi serve dopodiché appunto dicevo che con jquery cambia un po il modo di lavorare se voglio gestire l'evento su questo pulsante non ho bisogno di mettere qui on click o quello che è ma vado direttamente dentro al file javascript qui ce l'ho già lo apro quindi userò questo attenzione perché questo file è linkato è quindi vedete che qua c'è uno script src uguale js slash script punto js che fa riferimento questo file perché se non metto qui il link non funziona niente dentro questo file non c'è nulla c'è scritto che è lasciato vuoto apposta per inserire il nostro codice quindi cancello il commento e come vi ho fatto vedere poco fa nella pagina di v3 schools ecco come si inserisce jquery oltre allo script che ho fatto vedere come si inserisce jquery all'interno di un documento così dollar document punto ready function poi vado a chiudere con una parentesi graffa una parentesi tonda un punto e virgola ecco tutto il codice qua dentro che cos'è questo dollar document punto ready function e fa in modo che il codice contenuto qua dentro venga eseguito solo quando la pagina è completamente caricata per evitare che ci siano degli errori poi che cos'è che devo fare cioè quando viene fatto click sul pulsante questo pulsante sabmi cos'è che devo fare intanto devo rilevare l'evento come si fa questa è la scrittura poi ve lo spiego allora dollaro aperta tonda apice cancelletto poi vado a prendere il nome e l'id del pulsante che è sabmi button controvi sapete che cos'è questa è la forma abbreviata di document punto get element by id di sabmi button spero che questo l'avete usato no con javascript mai allora una parte la particolarità di javascript e del linguaggio javascript è quella di poter interagire con il dom cioè il document object model il dom è un'interfaccia che contiene proprietà e metodi per ogni elemento html della pagina quindi gli elementi che vedete qua di questa pagina html per cui il div h1 p form eccetera sono prima di tutto rappresentati con una struttura ad albero e inoltre ognuno di questi elementi ha delle proprietà e dei metodi perché il dom è un modello a oggetti quindi è possibile interagire con le proprietà e attraverso i metodi del dom è un modello a oggetti il dom con questi elementi quindi mi permette i metodi del dom mi permettono di andare a scrivere qualcosa dentro un campo di input di andare a prendere il suo valore eccetera eccetera e di visualizzare di cambiare delle regole css quindi di interagire con il documento quindi durante durante la visualizzazione della pagina javascript quindi utilizzando queste api queste application programming interface del dom può andare a fare delle operazioni sulla pagina vedete che tutti i tag che sono presenti all'interno di una pagina che adesso noi non vediamo sono vengono organizzati in una struttura d'albero per cui vedete c'è l'html poi il body e un figlio di html perché normalmente il body sta dentro html e head un figlio di html ma è un fratello siblings un sibling di body perché sono sullo stesso livello dentro head c'è il title e poi vabbè c'è il testo vero e proprio dentro il body in questo esempio c'è un titolo di livello 1 poi c'è un paragrafo e così via vi mette vi fa vedere tutti quelli che sono gli attributi e i metodi per i vari elementi del dom per esempio document che il documento vedete guardate quante proprietà document.body restituisce il body il nodo body del corrente documento document.children restituisce gli elementi figli in quella struttura gerarchica del documento corrente poi ci sono, perché sono tutte proprietà, poi ci saranno anche i gestori di evento, copy, cut, paste e poi va a vedere le proprietà del precout e poi da qualche parte ci saranno anche i metodi eccoli qua vedete ad esempio tra i metodi c'è proprio questo getElementById il quale restituisce un oggetto riferito dall'elemento identificato andiamo a vedere tanto per capire meglio ecco il document.getElementById che ha un parametro che è appunto l'id, infatti vuol dire restituisci un elemento che ha attraverso l'id quindi noto l'id dell'elemento getElementById mi restituisce il riferimento a quell'elemento, attenzione non il valore dell'elemento il riferimento, in modo tale che avendo il riferimento io posso poi andare a vedere le sue proprietà, a leggere il valore contenuto e così via quindi siamo proprio nell'ambito della programmazione a oggetti, proprio così come l'abbiamo intesa con Java non c'è questo metodo, mi restituisce il riferimento a un oggetto della pagina quale oggetto, quello che ha quel particolare id che io vado a indicare qui c'è un esempio, c'è questo paragrafo vedete che ha un id uguale a para poi ci sono questi due pulsanti con due gestori di evento quando si fa click sul primo pulsante si viene richiamata la funzione change color con parametro blu quando si fa click sul secondo pulsante viene richiamata la stessa funzione ma con un parametro diverso red, per cui quando noi andiamo a fare click su uno di questi due pulsanti viene richiamata questa funzione che ha questo parametro, il colore sarà quello che appunto dipende dal pulsante dove abbiamo scelto o blu, su cui abbiamo cliccato che è o blu o red che cosa fa questa funzione? va a prendere il riferimento all'elemento di dipara quindi prende riferimento questo paragrafo ripeto, non il testo contenuto ma proprio il riferimento all'oggetto paragrafo e poi su questo oggetto applica lo stile, come regola di stile colore, il colore passato come parametro quindi qua si può vedere il risultato se clicco su blu il testo diventa blu se clicco su red il testo diventa red ma adesso questo è un esempio, vi ho fatto vedere getelementbyid ma ci sono veramente una quantità enorme di metodi di proprietà che possiamo utilizzare per lavorare con javascript su una pagina html per cambiare delle cose, per modificarla mentre è visualizzata nel browser non prima, perché prima lo possiamo fare direttamente dal html css ma quando la pagina è visualizzata nel browser per poter fare qualche modifica, per esempio far comparire un nuovo paragrafo o qualunque altra cosa devo utilizzare javascript no, non funziona, perché? perché questa change color non è qualcosa che esiste in html e neanche in css richiama la funzione che però è mia, ce l'ho definita io questa funzione non è una funzione esistente l'ho creata io, l'ho messa in un file javascript e quindi avendo collegato l'html e il javascript lo sapete come, no? utilizzando il tag script quindi devo collegare i due file dopodiché quando richiamo la funzione change color viene eseguito il codice presente nel file javascript e quindi potremmo tranquillamente usare javascript senza ricorrere alla libreria jQuery perché ricorriamo alla libreria jQuery? perché l'utilizzo di jQuery con la tecnica Ajax è più semplice solo per quello se no potremmo usare tranquillamente javascript tornando al codice quindi io avrei potuto scrivere document.getelementbyad submitbutton sarebbe stata la stessa cosa di scrivere dollaro e quello che vedete qui cancelletto submitbutton sarebbe stata la stessa cosa questo mi dà riferimento al pulsante all'oggetto pulsante poi il vantaggio di usare jQuery si vede dopo quando useremo Ajax adesso questo mi dà riferimento è il nostro paese